e poi continuiamo il giro per Roma con la tua macchina con la mia macchina va bene a me mi piacciono le femmine e non soltanto quando parlano a me mi piacciono le femmine eccole qua le brave ragazze oggi si occupano di comportamenti di guida in città e per farlo abbiamo chiesto aiuto al vicequestore aggiunto della polizia stradale comandante Delfina di Stefano, benvenuta quali sono i più comuni errori che si fanno alla guida di una macchina quelli di cui uno quasi automaticamente non si rende più conto invece a cui deve fare attenzione quasi il 75% degli incidenti contrariamente a quello che si possa pensare avviene in ambito urbano quasi il 50% delle vittime della strada e quindi tante volte per esempio che uno dice no la cintura non me la metto perché tanto in città non serve invece è proprio lì è proprio lì perché sono proprio i percorsi a cui noi siamo sempre abituati quelli però più insidiosi quelli dove noi abbassiamo il livello di guardia e arriva l'incidente posso da mamma lanciare un appello sui parcheggi in città non solo davanti agli scivoli che quindi vale sia per ovviamente le carrozzine dei diversamente abili ma anche passeggini e carrozzine delle mamme insomma della vita quotidiana ma anche le macchine attaccate a volte non si riesce a scendere dal marciapiede è vero questo è uno dei maggiori segni proprio di inciviltà possiamo dire perché poi alla fine uno come guida così è rappresenta in qualche modo anche il suo carattere ecco e a proposito di pedoni comandante questi pedoni sono un po' bistrattati perché il codice della strada sembra riguardare soltanto gli automobilisti invece è per la tutela dei pedoni i pedoni sono quelli che noi chiamiamo utenti deboli della strada sono estremamente vulnerabili e come tali hanno bisogno di una protezione ancora maggiore il codice è intervenuto più volte sotto questo profilo recentemente per inasprire proprio le sanzioni per chi non rispetta i pedoni e ricordiamolo bisogna rallentare fino a fermarsi non solo quando il pedone abbia già iniziato ad attraversare sulle strisce pedonali ma anche solo quando abbia l'intenzione di farlo ovviamente come sempre vale da entrambe le parti perché ogni tanto anche come pedoni abbiamo dei comportamenti scriteriati perché ogni tanto si vedono persone attraversare la strada non sulle strisce pedonali senza nemmeno guardare è vero il clacson io proprio non lo sopporto se ne abusa è vero in ambito urbano è assolutamente vietato diversamente si possono utilizzare i fari abbaglianti per segnalare anche qui il pericolo ma assolutamente non si possono provocare rumori molesti le macchine che si fermano le fermate degli autobus anche quella è un comportamento veramente anche di inciveltà sono contenta perché sicuramente ci sarà qualcuno in giro in questo momento che ci sta ascoltando e sta ascoltando questi consigli chi lo sa speriamo solo ascoltando brave ragazze su radio 2 e non guardando i sitraver su rai 1 perché ormai in macchina si può anche vedere la televisione comandante ma non si fa è vero ci sono tante tecnologie che rendono il veicolo più evoluto però ricordiamoci che quando si guida bisogna pensare a guidare comandante grazie infinite di essere stata qui con noi grazie a voi noi proseguiamo con le brave ragazze assolutamente si e comandante delfina speriamo di vederci presto non sulla strada perché se ti incontriamo probabilmente abbiamo fatto qualcosa che non va già e invece noi ci vediamo in tv su Easy Driver per i nostri spazi sulla sicurezza stradale e ragazze queste qui